La Commissione regionale antimafia indaga sul sistema rifiuti in Sicilia. Già ascoltati i burocrati ed ex assessori, l'intervento di Claudio Fava che cita il caso Siculiana. L'Assemblea regionale siciliana ha appena ricevuto dal governo musulmanci la proposta di riforma dei rifiuti e la Commissione regionale antimafia, preseduta da Claudio Fava, è impegnata fino all'inizio del prossimo anno in un approfondimento sul sistema della gestione dei rifiuti in Sicilia nel corso degli ultimi due decenni. I commissari lavorano da oltre un mese. Sono state già svolte diverse audizioni tra dirigenti ed ex assessori, come Giosuè Marino, Nicolò Marino e Pier Carmelo Russo. Seppure invitato non si è presentato invece l'assessore del governo di Rosario Crocetta, Salvatore Callerri. È tempo di un primo consuntivo sullo stato di avanzamento dell'opera e lo stesso Claudio Fava lo traccia così. L'inchiesta parte dalla percezione che c'è un filo rosso che tiene insieme tutte le stagioni. È un filo rosso che parte dal governo Cuffaro, poi Lombardo e Crocetta con l'allargamento delle discariche private fino ai nostri giorni col governo musulmanci. È un sistema con influenze di gruppi privati, anche non siciliani, e con la capacità di un condizionamento anche criminale, proprio come con Montante. Vogliamo capire come è stato possibile. La Commissione Antimafia interroga non solo burocrati e politici, ma anche i sindaci. E Claudio Fava spiega il perché. Perché i sindaci sono interessati come parte l'ESA, sia perché nel loro territorio insistono impianti, sia perché siamo di fronte a scioglimenti di comuni in cui le giunte si opponevano a certi disegni. Pensiamo al caso di Scicli o di Siculiana. Nel momento in cui si apre uno conflitto tra comune di Siculiana e privati, esplode improvvisamente il bubone mafioso, con una inchiesta che poi si risolverà in un nulla di fatto. Nel frattempo però il comune era stato sciolto. Una situazione analoga si è verificata a Scicli. Siculiana è il territorio dove ricade la discarica della famiglia Catanzaro ed è stato Giuseppe Catanzaro, già presidente di Confindustria Sicilia, ad essere più volte citato nell'audizione dell'ex assessore Nicolò Marino, in contrasto con lo stesso Catanzaro e il gruppo intorno ad Antonello Montante. Pier Carmelo Russo invece si è soffermato sulle presunte affare dei termovalorizzatori, a proposito del quale Claudio Fava riflette così. Se andiamo a vedere la storia dei quattro consorsi che avevano affidato la costruzione dei quattro termovalorizzatori, il modo in cui si è suddiviso il territorio tra i quattro a tavolino è un'operazione che, affidata alla casualità, può riuscire una volta su un miliardo, come già rilevato dai giudici amministrativi. Poi Claudio Fava, in riferimento all'acclarato affare delle discariche private, a scapito delle pubbliche, commenta La portata delle discariche private è stata raddoppiata, triplicata. Ad esempio, l'Oikos, con un tratto di penna, è stata autorizzata a contenere due milioni e mezzo di metri cubi di rifiuti. Accadono cose del genere. E anche in questo caso trovi la traccia forte di quei gruppi privati presenti anche nell'affare dei termovalorizzatori. A fronte di ciò non vi sono tracce di procedure di investimento su impianti pubblici di trattamento dei rifiuti. Infine, altro capitolo dell'inchiesta comprende l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, dietro cui sono celabili, trame, affaristiche e influenze criminali. Claudio Fava conferma e aggiunge Anche su questo si vuole indagare. Abbiamo chiesto a tutti i 390 comuni di farci sapere da quando è stato dato l'incarico del servizio di raccolta, attraverso quale sistema e chiedendo a tutti di farci una radiografia limpida. Una trentina hanno già risposto. Ci sono appalti concessi dai comuni per via d'urgenza alle stesse imprese per più volte senza gara. C'è anche un cospicuo riciclaggio di denaro con imprese di prestanome di soggetti mafiosi. ...diparsi in presa e se stessa ha scelto alcuni imprenditori che questo mestiere...